Ragazzuoli eccoci qui Minecraft Java Edition che oggi ci dice Board Game Version Also Available E ci sta dicendo che praticamente esiste anche la versione gioco da tavolo di Minecraft Molto interessante, dirò la verità Secondo capitolo, eccoci qua Allora ragazzi, la scorsa volta ci siamo lasciati che abbiamo provato a prendere le cose per battere il Wither E purtroppo abbiamo preso una delle L più grandi di sempre Non sono nemmeno arrivato al Wither, ok? Siamo morti nel Nether e mi è caduto tutto nella lava Ma mi è venuta la pensata, mi è venuta la giocata da 2000Q Comunque scoperto di avere le testoline Ma prima di andarlo a battere, come vedete, sono messo un po' male a livello di armatura Non abbiamo proprio tutte le cose, però siamo attrezzati Andiamo nel land, dalle Anvil, ci portiamo dietro l'upgrade template Adesso non so bene come si chiami quella cosa strana, smithing table Per fare gli upgrade facciamo tutte le cose in nederite Mettiamo tutti gli incantesimi anche all'arco E poi siamo pronti, prendiamo anche un po' di ossidane e siamo pronti per battere il Wither Ok, andiamo nel land Ormai la sapete la prassi, si va dentro questo portalino qui, nella mia casa, dentro il muro E appena entro Non era questo, ma si va a destra e si arriva nel land Allora, piazziamo Vabbè, sta volando, ma non ci interessa Piazziamo un attimo questa Buttiamo via le enderpearl che mi occupano soltanto l'inventario Allora, l'altra volta abbiamo messo sweet sneak sui pantaloni Oltre a farli in nederite, come potete vedere Li andiamo a mettere unbreaking, mending e protection Li può mettere anche thorns, però purtroppo non lo ho Thorns è uno di quegli incantesimi che non sono ancora riuscito a trovare Poi abbiamo l'arco e l'arco li mettiamo Flame, infinity, power 5, punch 2 e unbreaking 3 Non penso manchi altro, anche perché l'ho cercato su internet Quali fossero incantesimi migliori Alla palla mettiamo mending e efficiency Ha già silk touch È la pala che dobbiamo rifare, che purtroppo ci è bruciata Non essendo in nederite E dobbiamo mettere poi alla nostra armatura il rib armor trim Con il diamante, adesso devo anche andare a prendere i diamanti Questo piccone... Questo piccone no, in realtà ha bisogno di un paio di incantesimi Che sono mending e efficiency 4 E poi lo possiamo fare in nederite Ok, vediamo quanto reggono queste anvil Perché ho paura che non riescano a reggere tutto Innanzitutto mettiamo gli incantesimi a questo Mending e protection Ok, sembrerebbe reggere Poi iniziamo a fare l'arco L'arco come lo chiamiamo, ragazzi? Datemi un nome esotico per l'arco L'arco, l'olito, Maurizio Ammazza Wither E se non lo ammazzassi? L'acustrarco, Ocus Pocus Ok Io li faccio apparire dicendo Ocus Pocus Troppo svegli per sto gioco Cambieremo modus Palla del 2006 Io lo so che tu stai facendo riferimento ai miei capelli Che sembrano alla palla dei mondiali del 2006, eh Sei un maledetto No, Ocus Pocus mi piace Ha a che fare con il nostro alert Ha una bella lore Ci piace Ocus Pocus Perfetto Ora, li mettiamo Infinity, giusto? Sì Al contrario, magari Ok Funziona ancora per il momento Devo semplicemente prendere nuovi livelli Enderman Mamma mia, quanto è soddisfacente L'unica cosa che non mi fa impazzire Forse se si stiamo togliendo le shaders È che non si vede niente Ah, così Così è molto meglio Il problema delle shaders è che rovinano un po' la luce alle volte Così si vede decisamente meglio Via per tutte le Ender Pearl Ormai mi serve almeno il livello 30 Per finire l'arco Mettiamo l'E-Power Poi le mettiamo Punch E... Ah, per poco Però si può fare Si può fare, ragazzi Possiamo fare l'arco perfetto Let's go Almeno poi abbiamo anche un arco Andiamo in giro a fare i trickshot Ci divertiamo Ok Ocus Pocus Flame Infinity Power 5 Punch 2 Unbreaking Dovrebbe essere un arco perfetto Poi, ripeto Potrei sbagliarmi Adesso Queste sono un po' cose extra Ma mi servono comunque Devo fare la Diamond Shovel E gli diamo un nome anche alla pala Come la chiamiamo questa pala, ragazzi? Chop Ok Oh, mi piace Chop Ehi, Paleutum Guardala lì Abbiamo un Eutum in chat Lacustri No, no, no Qua c'è una faida Qua c'è una faida tra gli Eutum e Lacustri Palustre è il classico Vai Si va per palustre Aspetta, mettiamogli anche l'incantesimo Se no sto sprecando livelli O comunque Utilizzi della mia bellissima Anvil Ehm, cosa li manca? Mending, sì E efficiency Ehi Ti ho visto che non hai lasciato like al video E mi raccomando Ricordati di bere due litri d'acqua al giorno Io ho appena finito i miei È importante per la tua salute Mamma mia Quante Ender Pearl che droppano Quante ne droppano Non so più dove metterle This is so crazy L'Anvil stanno per scoppiare Infatti valuteremo anche una farm di ferro Pure per fare il Beacon Perché per fare un Max Beacon Mi rifiuto di farlo in diamanti O pensavo di averli Invece non ne ho abbastanza Silky Perfetto Questi li buttiamo via E questi pantaloni Adesso li andiamo ad incantare Anche assieme alle altre cosine E ci siamo ragazzi Siamo pronti per battere il Wither Siete caldi Nederite Swift Sneak Track Unbreaking 3 Mending Protection Perfetto Ora togliamo questo Mettiamo qui il diamante Mettiamo qui questo Perfetto Si è rotto il mito ragazzi Utilizzavo soltanto armatura full diamante Adesso sono armatura full nederite Devo dire che mi dona Mi dona Mi manca soltanto la chestplate Che è un problema Perché oggi avrei bisogno della chestplate Questa cosa? Protection 4 Mending? Potrei accollarmela Dai C'ha Protection 4 Non so se ho altri incantesimi Ma ci sta Per la prima volta Ho fatto L'achievement Cover me in the breeze Fai un'armatura completa Nederite Ottimo Questa la dobbiamo chiamare L Ok Cosa mi serve adesso per battere il Wither? Le teste Che dobbiamo raccattare in giro per le chest Mi avete confermato Ho anche dell'ossidiana Ottimo Pensavo di doverla andare a riprendere Che abbiamo tutte e tre le teste In giro per le chest Il problema è che io non le vedo Quindi se vedete una testa di Wither Pammatemi Lolo testa Che io sono un po' cieco Eccola qua Trovata Le altre due sono nelle altre casse Giusto Vicino nella zona di lusso Diciamo Nella Distretto delle case di lusso Dovemmo ancora finire l'ultima In tutto ciò Ma nessuno si è accorto di niente Meno male Veramente avevamo già tre teste E perché non ho fatto il Wither prima? Perché non ci avrò fatto minimamente caso Assurdo Adesso mi serve la sabbia Delle anime Quante sabbie delle anime ho in giro? Punto di domanda Forse nessuna In caso lo andiamo a prendere molto velocemente Le frecce Giustamente le frecce Grazie ragazzi Questo è anche uno dei motivi per cui Faccio tutte queste cose in live Perché se no sarei andato nella battaglia Con l'arco così E non potevo sparare Le live vi ricordo Le faccio ogni giorno ragazzi Alle due un quarto E alle nove un quarto Vai Una sabbia delle anime almeno Giusto per dirmi qualcosa ti è rimasto In cosa le usate poi? Non è possibile che non ho della soul send in giro? Sapete cosa si potrebbe fare? Senza star qui a far casini Lo intrappoliamo sotto la bedrock? O lo combattiamo ad aria aperta? Domanda del secolo Andiamo nel land a prendere un po' di ossidiana Perché mi è perso di capire Che lo volete vedere all'aria aperta Ok Ho confermato che andremo a battere il wither all'aria aperta Però per il momento andiamo al volo nel land A prendere due blocchi Che mi servono per la battaglia all'aria aperta A sto punto Perché da previa esperienza Mi sono reso conto Se tu non batti il wither su un campo solido Che potrebbe essere fatto di ossidiana Oppure bedrock Finisci male È oggettivo Allora vi dirò la verità La mia tentazione di farlo qui è molto forte Però non ho voglia di togliere i blocchi di ossidiana Poi se succede qualcosa di sbagliato È un casino Andiamo a vedere se ho le mele d'oro Poi scegliamo un posto dove fare la battaglia Due mele Piccano abbastanza la vista Visto che sono rossissime C'è poco di rosso Per te la redstone Me le farò bastare allora Let's go Posto Andiamo a battere il wither Non scrivere Ce ne facciamo bastare 2x025 Come se perderò il mio fight No 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 Ok Troviamo uno spot Potrei farlo anche dentro una caverna In realtà No l'aria aperta è più bello però Più divertente Una zona relativamente piatta Possibile che sia tutto Una stramaledettissima foresta Qua mi sento che Ci sarà una zona piatta In mezzo all'oceano Non è una buona idea In mezzo all'oceano Sulla neve No 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 Ancora peggio che rimane intrappolato Beh una zona piatta Una zona piatta dove Dove buttare giù Un wither No No in mezzo alla zona che devo scavare No brother Ripeto non ho voglia di togliere l'ossidiana E ho paura che Facciamolo Andiamo Mi hai Hai la mia attenzione Mi hai convinto Non rischiare Non ci fa paura Marta Non ci fa paura questa cosa Però lo dobbiamo mettere bene Io so dove è il centro esatto Io direi che lo facciamo a questa altezza qui Quindi qui iniziamo a mettere tutta l'ossidiana Nel centro preciso Perché sennò rischio troppo che vada verso il vetro Anche se sicuramente qualcosa andrà verso il vetro ragazzi Succederà qualche danno grosso Ma fa niente A me non fa paura Meno male che ho gli incantesimi buoni Sennò questa ossidiana non la piazzavamo più Sta iniziando a salire con l'ansietta di quando devi battere il wither per la prima volta Ok Lasciamo qui per ora questo La testa ce la teniamo in testa Per evitare di piazzarla per sbaglio E continuiamo a mettere la nostra ossidiana Potrei aver fatto una cavolata Perché è un L subliminale Temo di non riuscire a fillare completamente questo buco centrale Se io dovessi cadere qui dentro è finita Non so se lo riesco a affrontare stando soltanto qui Hmm Semi fare una cosa tattica Calma innanzitutto Via i razzetti e mi metto l'armatura Mi metto la testa Ho bisogno la spada Ho bisogno l'arco nella seconda mano Ho bisogno le mele d'oro qui Ho bisogno questo Il libero lo utilizziamo forse per fare l'ultimo colpo se riesco Non ho bisogno di nient'altro Mi servirebbe dell'ossidiana Mi sembra un po' piccola questa zona qui L'acqua Almeno l'acqua mi serve Altra ossidiana We good Abbiamo il secchio Siamo pronti Inizio a sentire la tensione nell'aria Inizio a sentire la puzza di polvere da sparo delle teste del Wither E io spero che Perché il problema delle teste del Wither è che volano all'infinito Che le spari solo a me e non le spari fuori Se le spara fuori è un casino ragazzi Sarà una catastrofe distrugge senza sosta Ci piacciono le catastrofi bro Allora ci alziamo di qualche blocco Così quando esplode non ci rompe l'ossidiana Ok Mamma mia Forse metterei ancora un po' di acqua E ordiniamo l'inventario I razzi possono servirmi per scappare Potrei anche tenermi il secchio Potrebbe farmi comodo L'acqua tanca più o meno i colpi Il latte Mmm Ha senso prendere il latte? Secondo me non ha troppo senso prendere il latte Perché dal momento in cui ti curi ti arriva un altro colpo E sei già di nuovo Witherizzato Forse ha senso se camperi e ti curi Ma io non voglio camperare Non esiste il campering Io so già che andrà a finire malissimo ragazzi Non può finire bene una cosa del genere Come può finire bene mettersi in mezzo ad una costruzione gigante Tutta diroccata e fare un combattimento contro l'Wither? Non può finire bene L'unica cosa per cui può finire bene È che riesco a togliergli la vita Metà della vita abbastanza velocemente Ragazzi ci siamo È da un po' di tempo che non facevamo una battaglia seria Raga va a finire malissimo Va a finire malissimo No no non è vero Non è vero Il king di minecraft non ha paura di queste cose Sta per esplodere? Ok Colpiscimi mentre sto qui Aia sta iniziando a hittare Sta iniziando a impazzire Non devo cadere Devo stare attento Ok Non devo cadere nel buco Non devo cadere nel buco Daie No Ui No Ok però Ci siamo allontanati dallo spot Calma Non riuscivo a vedere la vita perché era Witherizzata Eeeh Aaaa Come ci torniamo lì? No Ragazzi iniziamo malissimo Iniziamo malissimo Iniziamo malissimo Più che altro c'è un Wither a cielo aperto Un razzo mi serve Perché io ho un Elytra Un razzo per arrivare dal Wither Un razzo ti prego Questa cosa che è la Witherizzazione ti può killare è bruttissima Pensavo ti potesse lasciare a metà vita ed è quello che è successo Lo scorso episodio mi vengono i flashback Allora qua ci sono delle canne da zucchero Prendiamo l'Elytra che abbiamo in queste casse qui Polvere da sparo Perfetto Si sta anche per fare buio Quindi possiamo dormire nell'altro letto e settare lo spawn Che è un po' più vicino Uff Nulla è perduto ragazzi Nulla è perduto Letteralmente non abbiamo perso niente No mi ha visto Corri corri lollo Corri lollo Corri lollo Prima che ti faccia esplodere le cose Inizia a metterti i pezzi di armatura che puoi metterti Mettiti queste cose nell'inventario Carne I razzi li tieni qui Questo è importante che sia qua Raga ho visto anche del vetro che è scoppiato comunque Smettila di sparare le tue testoline Affrontami Si è curato? Oh no Vai Facciamolo venire giù Vieni giù Vieni giù Dai affrontami davvero uomo bro Aia Aia ha fatto male Ha fatto male Dai 10 10 bro 10 10 Non mi fai paura Dai No fa male però Fa male Fa male Fa male Mangia 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 e corri 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 Colpiscilo Ok Let's go Let's Fucking Go Con due mele d'oro ragazzi Due mele d'oro Una piccola sconfitta Ma Il signor Wither Ha preso la doppia L Di Lolo Lacustre Ha E si porta a casa la Nether Star Controlla Il Recipe Book Ce l'abbiamo fatta Ce L'abbiamo Fatta E adesso con questo bellissimo Aggeggino qui Con la Nether Star Ragazzi Finalmente Possiamo Iniziare a fare le cose Seriamente Possiamo iniziare a costruire I beacon E soprattutto Possiamo annetterci tante belle farm Come per esempio La farm di ferro La prossima cosa che faremo Sarà la farm Di ferro Che ci servirà per questo Bellissimo progetto Vediamo i danni che sono stati fatti Dal Wither Perché qua Allora qui vedo Che è esploso Un vetro Ma si è limitato a una mini esplosione Qui pure Qui pure L'avevo vista anche prima Mentre svolazzavo Lì ce n'è un'altra Sulla mia destra Oh Vi dirò Non ci sono questi grand'anni Più che altro questa zona qui Vicino al vetro ma non l'ha neanche colpito E là Ok ha fatto un buco lì sopra Quello è un po' scomodo Dai Neanche troppi danni Alla fine That's pretty good Ottimo ragazzi È andata da dio È andata da dio Dai Ci teniamo anche l'arco Cosa che prima non avevo E mi sarà sicuramente molto utile E basta Direi che per la battaglia del Wither Let's go abbiamo spaccato Lacustri Io vi ringrazio tantissimo della visione Come al solito Se volete vedere altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Let's go